Facciamo una foto e cosa fai? qui sopra ti metti ma potrebbe anche andare perché sennò non riesci mica a star piegato devi stare centrale non è che si capote il carriolino a sedersi così non è che ti fai nulla pronta a sedersi non è che fosse l'ipolline d'armi no 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 vai da beccarci poi soppariamo no 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 vai sul culo su pallini per me dovete fare un po' più di misura no te vedo triste cosa fai? io stai qui ma li sei merdito seduto seduto dove? ti avevo detto fai un po' di yoga mettilo avanti stai qui a scrivere già no 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 metti la scilla e siediti la i piedi i piedi qui i piedi qui il peso io il peso lo voglio sopra le due ruote mettiti a sedere mettiti il penne ti fai una ruota mettiti il sedere sul legno bravo ecco ascolta spostamelo un po' in avanti aspetta aspetta Norby aspetta 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 Panone stai bene su tutto forse Panone stai bene su tutto stai bene su tutto forse Panone stai bene su tutto non l'hai pensato al paraschiena è una fulmine attenzione attenzione trasporto speciale attenzione ho gli occhi grandi per partire io sono pronto c'è ancora del peso anche malo alla schiena è leggerissimo è leggerissimo è leggerissimo stai bene su stai bene su stai bene su poveri sono tutti a te ma è un belico la famiglia di dunque non è un belice non è un belice non è un belice è un belice è un belice non è un belice vai Norbi vai frena il traffico frega frega vai Norbi vai Norbi vai Norbi vai Norbi vai Norbi vai Norbi non volare vai 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 avviene vai vai Grazie a tutti. Grazie a tutti.